Siamo contenti, siamo contenti. Io avevo chiesto punti e prestazione alla squadra, penso che l'abbiamo ottenuto entrambi, quindi è andata come volevamo, come desideravamo. Siamo felicissimi, va bene così. Non vorrei interrompere la sua felicità, ma manca una giornata alla fine dell'andata e ora possiamo trarre qualche conclusione. È la squadra che lei si aspettava all'inizio? Il momento attuale non è ancora per trarre conclusioni. L'importante per noi era fare punti in queste ultime partite prima della pausa natalizia. Ci stiamo riuscendo, veniamo da due vittorie consecutive. Il primo obiettivo è vincere ancora mercoledì per chiudere la prima parte della stagione e poi si vede. Cosa possiamo aspettarci a gennaio? Vedremo, siamo aperti, siamo vigili, c'è da migliorare. Questo è indiscutibile, vedremo di migliorare ancora. Migliorare nel senso di, possiamo sperare, dei rinforzi nella squadra? Lavoreremo anche su questo, sicuramente faremo anche qualcosa in tal senso. Lavoreremo anche su questo, sicuramente faremo anche su questo. Lavoreremo anche su questo, sicuramente faremo anche su questo.